E' nata nel gennaio del 2017, quindi molto molto giovane, appena iniziato a camminare. Ci occupiamo di libri per bambini e ragazzi dai 2 fino ai 14 anni. Abbiamo il vincitore del premio Strega 2018, che è la storia di Achiko, il famoso cane giapponese conosciuto più o meno in tutto il mondo. E' scritta da Luis Pratz, che è un autore catalano. Per la prima volta è stato tradotto in Italia da noi e bene abbiamo fatto, visto che ha vinto subito un premio importante. Questo è un altro libro sempre dell'autore di Achiko, che è un fantasy per bambini di 8-10 anni ed è il primo di una serie di 5 che sono già usciti in Spagna. E noi abbiamo tradotto il primo per ora, ma abbiamo il progetto di tradurre anche gli altri. E poi creeremo una collana per i più piccolini, con le avventure di un pulcino. Finora è il nostro libro per i piccoli, parla delle avventure di un pulcino, che come tutti i bambini vuole essere indipendente dalla mamma, e quindi si allontanerà da lei vivendo un'avventura con aspetti belli e aspetti brutti, come tutte le avventure. E la mamma lo lascerà libero finché poi alla fine andrà in suo soccorso. Ecco, anche di questo abbiamo deciso di fargli una collana e sta per uscire la seconda avventura, che parlerà di gelosia perché la mamma avrà un altro ovetto da covare e lui non gradirà molto la cosa.